Dottor Carbone, parliamo di Horizon 2020 perché il programma è un programma molto ambizioso, molto sfidante, è stata compiuta fra l'altro una lotta sul budget importante per contenerlo visto l'Italia e la spesa voluti da signor Marron Pui. Il Parlamento europeo ha fatto molto, soprattutto il presidente Elia Sartori e il vicepresidente Patrizia Toia, che rappresentano per l'altro anche un vanto per l'Italia. Allora, una scheda tecnica, una carta di identità di Horizon 2020? Sì, dunque, Horizon rappresenta sicuramente una grande novità rispetto ai precedenti periodi di programmazione perché qui la Commissione cerca di fare un salto, di coniugare la ricerca all'innovazione e quindi di coniugare sia l'attività del mondo della ricerca, l'università, centri di ricerca pubblico e privati, ma anche quelli del mondo industriale. L'obiettivo della Commissione è che abbiamo fatto ricerca, continuiamo a finanziare ricerca di alta qualità, di eccellenza. Adesso questa ricerca deve essere tramutata in qualcosa di tangibile, prodotti, servizi, tecnologie innovative che possano creare effettivo beneficio per la cittadinanza europea, che possano generare impatto sociale e impatto economico. Di conseguenza Horizon si propone l'obiettivo di finanziare, di supportare tutto il ciclo che va dalla ricerca di base, ricerca di eccellenza, fino a quelle attività, diciamo, prototipazione, scaling up, prima applicazione sul mercato, che quindi avvicinano la ricerca verso un risultato, un output tangibile, concreto. E questo è il grande obiettivo di Horizon 2020 per i prossimi sette anni, a cui insomma tutti gli attori, università, centri di ricerca, ma ripeto, mondo industriale, piccole e medie imprese in particolare, sono chiamati a rispondere, sono chiamati a rispondere con una certa unità di intenti, direi, perché poi comunque sarà necessario quasi sempre presentare le proposte in partenariato, partenariati transnazionali oltre che trans settoriali. Tra l'altro l'aspetto della multidisciplinarità, quando si va a rispondere un bando, sarà un valore aggiunto delle proposte, quindi insomma bisogna anche capire quello che si va a sviluppare per chi, chi ne va a beneficiare, quali sono i target group. Il commissario Tajani, vicepresidente, fra l'altro, della squadra di governo di Barroso, ricorda 27 milioni di partite IVA di piccole e medie imprese in Europa e ricorda anche che questa è una sfida, come dire, rivoluzionaria perché spesso ormai abbiamo neanche più il fiato sul collo degli americani piuttosto che invece quelli dell'est asiatico, ormai ci hanno superato in competitività e innovazione. Ecco, questa sfida per l'Italia in particolare, dove le difficoltà sono sempre maggiori, ecco, può essere in qualche modo vinta o perlomeno accettare il fatto di poter partecipare seriamente con un progetto davvero di dimensioni europee? Sì, dobbiamo riconoscere che la Commissione in questa programmazione, quindi 2014-2020, è venuta incontro all'esigenza delle aziende, anche delle piccole e medie imprese e anche delle micro aziende, che sono la maggioranza delle aziende italiane, se parliamo del nostro spaccato nazionale. Vi sono sia opportunità di presentare proposte in collaborazione con università, centri di ricerca e industrie, ma c'è anche un nuovo strumento specifico pensato per le esigenze delle aziende, in cui la proposta deve essere, nasce, deve nascere dall'esigenza dell'azienda, sia all'interno di Horizon 2020, questo strumento piccolo e medie imprese. Inoltre la Commissione ha anche predisposto a una serie di servizi di supporto, delle agevolazioni per accedere alla finanza e alla finanza di rischio, e sono strumenti che sono presenti sia in Horizon 2020, e quindi il DG, ricerca e innovazione della Commissione, sia in Cosme, DG Enterprise, che è appunto la DG dell'Onorevole Tajani. Ecco, fra l'altro c'è, come dire, la necessità di dare e fare informazione su questo, perché ce n'è poca, anche da parte, come dire, delle imprese, degli attori, nel senso bisogna anche un po' interessarsi, non è possibile pensare a rimanere in Italia e poter capire cosa funziona in un'altra parte del mondo, che sia Bruxelles, piuttosto che Bratislava o Cracovia, no? Quindi, ecco, come può vincere l'informazione, la battaglia di rendere questa cosa più diffusa e massiva verso tutti coloro che possono essere interessati? Dobbiamo dire che, in effetti, alcune strutture di supporto, intermediari, intermediari di supporto sono presenti, magari sono scarsamente pubblicizzati. Ad esempio, su Horizon 2020 c'è l'Apre, l'Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, che ospita tutti i punti di contatto nazionale per le varie tematiche di Horizon 2020, ma alla stessa maniera, per quanto riguarda le piccole e medie imprese in particolare, i servizi, le opportunità di trasferimento tecnologico, internazionalizzazione offerte dalla Commissione Europea, vi sono altre reti di supporto, ad esempio la Enterprise Europe Network, che ha soggetti intermediari su tutto il territorio nazionale e così via. Quindi, diciamo, chiaramente le associazioni di categoria sono chiamate anche a divulgare queste opportunità attraverso, insomma, seminari divulgativi piuttosto che eventi un po' più di approfondimento. Ed è essenziale, questo ruolo è essenziale soprattutto per la nostra, se parliamo di piccole e medie imprese, per la nostra struttura industriale, fatte per lo più di 95% di microaziende, quindi con meno di 10 dipendenti, che sicuramente devono essere accompagnate e supportate in questo processo.